bella a tutti ragazzi sono dei king e benvenuti qui oggi in questo nuovissimo video oggi siamo qui su modern warfare 2 per portarvi il volume 2 di oh mio dio ho fatto un quickscope credibile atteso tantissimo da voi invece per un cazzo non era per niente atteso però ve l'ho portato perché comunque era un video che come avevo detto nel diciamo nel video di ritorno su black cost 3 lo volevo portare perché è un video che mi piace tantissimo registrare insomma quindi vediamo che riusciamo a fare oggi intanto tipo non ho la mano col cecchino perché non ci gioco da un botto sarà una partita del calcio perché ovviamente quando giochi da tanto tempo col cecchino uscita sempre in una partita di me porca puttana però la voglio vincere non me ne frega un cazzo io questa voglio vincere comunque tantissimi piace se volete un altro video del genere col cecchino però magari su altri code su black ops 2 o su black ops 3 oppure si sono buggato pure diciamo su mv3 se trovo le lobby mori grazie mori grazie mori grazie ma è troppo bello fare i quickscop su gioco no l'avevo capito che stavi lì coglione no la cremo guarda che tumore guarda dove stava camperato guarda fai schifo cazzo it marker it marker it marker it marker it marker ragazzi io so ho perplesso com'è arriva a fai con la mamba da me e cazzo di nemici dove minchia sta via dai ma sei un cortate dai ti camperico le cremo a nota ma propria schifo alla merda poi gesù guarda quello quanto porre anzi quanto lag ma io un nemico lo posso trovare si credo sto cercando da una fottuta ora non ne ho trovato uno grazie mille dove minchia l'ho preso tutta la vita l'ho preso l'ho preso tutta la cazzo di vita l'ho preso l'ho preso tutta la vita ma che cazzo fa minchia mi sono confuso con vio 3 mi sono confuso che si dà il pugno con x va a cagare io c'è passato quel sticker move di merda porca puttana la devo fare qualcosa col cortellato e minchia me l'ho preso credibile la doppia pazzesco guardalo guardalo fai schifo fai fai schifo cazzo dai ma che cazzo di cosa minchia ho fatto ho fatto veramente lo schifo come ho fatto a non prenderlo madonna sto facendo cagare ragazzi non ci gioco da un botto non ci... basta quanto faccio schifo 4 4 giustamente giustamente ma equally rì ma guardate quarda si riesce a capire un cazzo ma mi ho avuto un po' tumorata sta robina vorrei dire Dio Basta Ma vabbaculo No vabbè Non lo prendono Non lo prendono Non lo prendono Io gli faccio il quic Non lo prendono No vabbè Ma fa' quella mamma Su madre Ma va a cagare va Una lobby di cecchini Non ho trovato Tutti Tutti con le cazzo di armi Gesù C'è un bar di olio C'è un bar di olio No 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 Niente Ciao